La seconda fine è molto importante il patto dei sindaci, un impegno per il 2030 per vivere in città più pulite e più a misura d'uomo. È un punto di inizio, abbiamo molto cammino da fare ma tutte le città d'Europa insieme possono unirsi in questa battaglia per un ambiente più pulito. In che modo? Cambiando i comportamenti quotidiani ma soprattutto attraverso uno scambio delle buone pratiche che ci sono in tutte le città d'Europa. Noi come città di Genova siamo aperti, questo è un importante momento che dimostra quanto Genova sia centrale anche sui temi ambientali.